Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questo live event organizzato da Bayer in collaborazione con l'informatore agrario. Oggi il tema di questo evento sono due, parliamo di viticoltura, in particolar modo parliamo di flavescenza dorata e cocciniglie della vite. Perché parlare di queste due problematiche? Innanzitutto flavescenza dorata è un problema che è comparso alla fine degli anni 90 e oggi sta ritornando in diversi areali viticoli italiani. Qui siamo a Verona e Verona è una delle aree dove abbiamo una recrudescenza di questa problematica. Però parleremo anche di cocciniglie, cocciniglie della vite che sono appunto un problema sempre più emergente e che stanno destando problematiche nella gestione. Quindi oggi avremo un momento formativo proprio su queste due tematiche. Parleremo di flavescenza dorata e quindi del suo vettore o dei vettori come vedremo più tardi e parleremo di cocciniglia. Chiaramente siamo in modalità online come ormai da molto tempo ci capita, però abbiamo connessi con noi il professor Nicola Mori dell'Università di Verona. Buongiorno Nicola. Il dottore Enrico Marchesini di Agrea Centro Studi. Buongiorno Enrico e la dottoressa Silvia Casalini di Bayer. Con loro cercheremo di affrontare queste due problematiche cercando di capire quali sono le criticità ma allo stesso tempo cercare di individuare quali sono le soluzioni per una corretta gestione. Vi ricordo che questo evento partecipa al programma di formazione dei dottori agronomi e dottori forestali, del collegio dei periti agrari e periti agrari laureati e di assenologi. Vi ricordo inoltre che c'è la possibilità di fare domande ai relatori che si susseguiranno attraverso la chat. Vi chiedo di utilizzare la sezione domande e risposte per così rispondere in modo più puntuale alle vostre richieste. Ultima cosa, l'evento è registrato per cui qualora ci fossero delle persone che non sono riuscite a seguire questo evento verrà caricato sul nostro canale YouTube dell'informatore agrario. Non rubo altro tempo quindi entriamo subito nel vivo del tema. Invito Nicola Mori. Nicola tu da quello che mi dicevi hai fatto la tesi di laurea proprio sulla flavescenza e quindi ritorniamo a parlare di flavescenza dorata. Volevo capire con te attraverso la tua presentazione quella che è un po' la situazione attuale quindi parliamo un po' di epidemiologia ma allo stesso tempo vorrei capire quali strategie vanno adottate per la gestione del vettore Scafoideo Titanus e capire se è cambiato qualcosa rispetto alla fine degli anni novanta. Grazie Gian Antonio di questa presentazione e di avermi ricordato che ho più di quasi trent'anni che lavoro sullo stesso argomento quindi spero di non essere noioso ma noioso non lo sarò perché di fatto ci sono dei cambiamenti. Vedo se posso condividere lo schermo. Scusa un attimo che ho la. Ecco quindi. Quindi. Flavescenza dorata. Allora una cosa fondamentale che non dobbiamo dimenticare è che la flavescenza dorata è un organismo obbligato. Quindi lui è un parassita obbligato ha necessità di vivere all'interno di un altro organismo che sia pianta o che sia un animale e questo di fatto sua incapacità di vivere in ambiente esterno condiziona la sua possibilità di trasmissione. Quindi non è banale ricordare che non si trasmette con gli strumenti di potatura come potrebbe altri fitoplasmi trasmettersi ad esempio quello del melo non si trasmette attraverso le anastomosi radicali mentre è trasmesso accidentalmente in bassa misura dal vivaismo e dallo dagli insetti vettori. La flavescenza dorata ha un tipo di trasmissione che fino a poco tempo fa era considerata esclusivamente a ciclo chiuso cioè una cicalina che vive esclusivamente su vite nel caso specifico lo scafoidostitanus acquisisce il fitoplasma da vite effetta e lo trasmette a vite sana quindi la trasmissione vite a vite. Recentemente è stato dimostrato che altre cicaline che non vivono su vite e quindi dette occasionali possono trasmettere in maniera aperta cioè in un senso solo la flavescenza dorata da tante arbore arbustive presenti nel agro ecosistema vigneto. In ogni caso comunque il vettore principale quello che poi trasmette il ceppo specifico di flavescenza dorata e qui non so poi se avremo tempo di discutere perché la flavescenza dorata è un insieme di ceppi alcuni vivono solo sulle piante arboree alcune solo sulla vite ma di fatto da questa trasmissione aperta poi viene amplificata dallo scafoidostitanus. Il dottor Almentano diceva bene c'è una recondescenza il perché perché ci sono questi nuovi vettori perché la gente è cambiato magari la flavescenza dorata in questi anni è mutata i diversi ceppi possono essersi evoluti oppure anche il principale vettore lo scafoidostitanus come vedremo di fatto dagli anni 60 da quando è stato segnalato per la prima volta in provincia di Imperia da Vidano nel 64 in questi anni è di fatto cambiato il suo rapporto con la pianta e probabilmente anche il suo rapporto con il fitoplasma ma probabilmente può essere anche che ci sia il cambio generazionale e quindi di fatto gli agricoltori che io seguivo negli anni 90 i propri figli ora conduttori non ricordandosi del disastri epidemiologici che ci sono stati in Veneto ma in molte regioni non solo italiane ma anche europee di fatto hanno un po' abbassato la guardia e quindi sottovalutato quelle poche viti presenti sicuramente il cambio di strategia dovuto alla revoca di alcuni prodotti e all'aumentare di alcuni mezzi di lotta che non parlo di efficaci non efficaci ma di fatto non c'è allo stato attuale su vite una strategia che possa essere un unico intervento per più target di fatto probabilmente anche come vedremo dopo parliamo di interventi specifici per target specifici quindi c'è stato un cambiamento nelle strategie di difesa questo problema ci tengo a dire non è nazionale perché a livello recentemente cito un lavoro dove vedete qui che un gruppo nutrito di ricercatori tra cui anche italiani ha cercato di mettere insieme più informazioni per capire per dare delle risposte che ad oggi non ci sono di queste nuove emergenze epidemiche in europa e di fatto anche sul sito della epo la flaviscenza dorata rimane un organismo da quarantena posto sotto attenzione sempre in un recente lavoro viene a livello europeo quindi per dare la dimensione di quello che stiamo parlando è stato riassunto un po quello che sono le possibilità di contenimento della flaviscenza dorata sapete che di fatto la malattia viene espressa tendenzialmente di una pianta ma anche di un organismo animale come un triangolo che è il risultato dell'interazione tra l'ambiente pianta ospite nel caso nostro specifico il vettore ecco quindi oggi noi se noi dobbiamo o possiamo parlare di gestione sull'ambiente una cosa che dobbiamo prenderne atto mentre possiamo eventualmente ma non è oggetto del 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 webinar di oggi sulla vite ad esempio con l'impiego di varietà resistenti si potrebbe parlare di termoterapia ove disponibile per alcune cultivar sicuramente il monitoraggio è fondamentale così come l'eradicazione delle viti sintomatiche stiamo parlando di un organismo da quarantena che è legiferato e che quindi soprattutto in determinate reali che il decreto recita come focolaio l'estirpo è obbligatorio ed essendo la fonte di inoculo per il vettore è comunque sempre consigliato pure ci sono alcuni recenti studi su degli induttori di resistenza che in qualche modo aiutano la pianta a interagire in minore in misura positiva rispetto alla pianta ospite verso il fitoplasma oggi noi però siamo qui a parlare su come intervenire per ridurre questo patogeno intervenendo sul vettore e la prima cosa fondamentale consideriamo vettore perché è vero che è corretto dire vettore ma ricordiamoci che allo stato attuale il ruolo epidemiologico maggiormente di maggiore entità è dato dallo scafoideus titanus che scafoideus titanus è ricordo una specie monofaga monovoltina cioè vive solo su una pianta che ha vite quindi l'eliminazione delle piante ospiti che sono fonte di inoculo di fitoplasma e piante ospiti anche non solo della gente ma anche del vettore diventa una forma di lotta già lui nel 1982 alle prime segnalazioni riprese poi da belli da altri ricercatori parlano che la flaviscenza dorata è una malattia ambientale e così deve essere gestita non può essere gestita e lo vedremo poi nel dettaglio a livello di vigneto ma deve essere gestita a livello di comprensore quindi l'eliminazione di tutte le piante di vite sia in selvattichite che coltivate quindi venite abbandonati i gerbidi come vengono definiti nella regione piemonte è di fondamentale importanza per la riduzione non solo della pressione del fitoplasma ma anche dell'insetto vettore che su queste viti può svolgere il ciclo ma sicuramente l'aspetto più importante per gestire la flaviscenza dorata è il controllo dell'insetto vettore controllo dell'insetto vettore che come indicato deve essere fatto prima che diventi infettivo perché ricordiamo che lo scafoideus titanus non fa danno diretto su vite voi potete confinare 100 scafoideus titanus su una vite e al limite può esserci l'apparire di un po' di melata eventualmente ma nessun sintomo non lo so ad esempio come l'empoascavitis l'empoascavitis già due o tre individui per foglia causano quelli accartocciamenti arrossamenti che voi ben conoscete oppure la recente rasmoneuro vulnerata 10 individui per foglia possono causare del danno ma non lo scafoideus titanus lo scafoideus titanus è dannoso solo perché trasmette la flaviscenza dorata quindi io devo controllarlo in quanto vettore lui ha necessità non nasce malato lui ha necessità ogni anno questa è una fortuna di acquisire il fitoplasma su una vite ammalata quindi lui tra poco nascerà tra una settimana forse due e si trova su una vite ammalata il giovane acquisisce la linfa acquisisce anche il fitoplasma e deve passare un po' di tempo affinché il fitoplasma all'interno del corpo dell'insetto si moltiplichi si moltiplichi lo scafoideus titanus si ammala di flaviscenza dorata lo scafoideus titanus sta male allunga il ciclo la femmina fa meno uova ma non muore perché se morirebbe non cesserebbe il processo di trasmissione e invece l'evoluzione ha voluto che tra fitoplasma e insetto vettore si creasse questo rapporto che non è simbiotico perché è a favore del fitoplasma ma in qualche modo mantiene vivo lo scafoideus titanus intanto che riesce a trasmettere e il tutto avviene nel giro di 3-4 settimane perché è importante questo perché questa informazione il fatto che debba essere acquisito e il fatto che il rapporto col fitoplasma è di tipo col vettore è di tipo persistente propagativo è fondamentale per le strategie di difesa questo è il ciclo di sviluppo dell'insetto vettore scafoideus titanus fa un'unica generazione all'anno sverma come uomo fra qualche giorno schiude la prima la seconda età non è in grado di acquisirla perché perché lo stiletto boccale è troppo sottile non riesce a penetrare il floema fino in fondo comincia a creare qualche problema dalla seconda terza età considerando poi il tempo di latenza di 2-3 settimane l'insetto è in grado di trasmettere la flavicenza dorata cioè da infetto a infettivo quando è in quinta età sicuramente quando è adulto perché perché l'adulto è l'unica forma di sviluppo di questo insetto che ha le ali e quindi può spostare l'infezione non solo tra viti contigue ma anche a distanza perché importante è questo la parola chiave della strategia di difesa contro non solo lo scafoideus titanus ma tutti i fitofici è il monitoraggio dati del dottor posenato in val d'alpone da quando è nato ad adulto nel 2019 sono intercorsi indicativamente 33 giorni con la comparsa della terza età cioè quella che è in grado in qualche modo di acquisire e della quinta quella che è in grado bene o male di trasmettere il 18 al 25 giugno nel 2020 uovo ad adulto l'insetto ha impiegato 49 giorni la comparsa della terza età al 19 e della quinta età ai primi di luglio quindi c'è stata una dilazione quindi capite bene che quando noi parliamo se una volta si diceva e quando studiavamo noi armentano metà giugno 20 giugno non ha più senso perché adesso non abbiamo più prodotti che hanno a largo spettro d'azione adesso abbiamo prodotti specifici che come dopo penso verrà detto hanno funzionano se posizionati in una determinata finestra temporale quindi parlare di date nel 2021 non ha senso dobbiamo parlare di fenologia dell'insetto ecco che allora in una strategia di difesa integrata dove siamo in fase endemica epidemica cioè dove le popolazioni di schiafogliostitano si sono elevate e soprattutto è elevato il numero di piante sintomatiche cioè la fonte di inoculo qui necessariamente probabilmente dato che abbiamo un lungo periodo di ovidio posizione il primo trattamento ha fatto alla comparsa della terza età nell'intervallo terza quinta età sicuramente prima dell'inizio del volo degli adulti dopodiché essendo scalarità anche in funzione delle temperature quindi il continuo monitoraggio è essenziale non solo trovo la prima età trovo la terza età trovo la quinta età e l'imposto dopo vale a secondo ovviamente del della sostanza attiva quindi in una gestione integrata epidemica diciamo che uno due interventi ovviamente il secondo è in relazione al monitoraggio di fatto invece nell'agricoltura biologica in considerazione della termo e foto l'abilità delle molecole o anche se vogliamo della minore efficacia perché stiamo parlando di botanica o comunque di sostanze che rispetto a quelli di sintesi chimica sono meno efficaci e perché meno efficaci dobbiamo applicarli più volte e quindi qui dobbiamo in considerazione del fatto che dobbiamo prevenire la presenza della quinta età edulto è chiaro che l'intervento viene fatto leggermente anticipato e dopo a seconda della sostanza attiva ogni 7 o 10 giorni diverso è se invece siamo in una situazione endemica cioè dove la malattia è in qualche modo gestita quindi le popolazioni del vettore sono basse così come anche la presenza di piante sintomatiche in questo caso la lotta più razionale prevede un trattamento insetticida in modo da mantenere basse e comunque le popolazioni qui il tempo ovviamente varia e l'importante non andare sulla presenza degli adulti quindi prevenire quindi posizionare indicativamente intorno alla quinta età e nel caso della viticoltura biologica sempre il doppio interventi se necessario anche qui cercando eventualmente di anticipare il primo come avete visto comunque quelli che si fanno dai primi di luglio sono anche tutte le molecole che sono registrate attualmente su vite hanno un'efficacia anche nei confronti dell'orientus iscide che è l'altro vettore che ha una certa importanza mentre la dicteofra europea tendenzialmente rimane sulla clematis è un ruolo epidemiologico molto più basso interessante e Gian Antonio ancora tre minuti e guardiamo la regione Veneto ha fatto un monitoraggio su 140 vigneti dove ha cercato di mettere in relazione qui può dare veramente al dottor Carraro che è stato si è impegnato molto e ha coordinato tutti i tecnici della regione e questo che trovate ho preso le slide che trovate sulla regione Veneto vedete ad esempio qui due pirettri naturali hanno hanno sortito un ottimo risultato mentre tre pirettri naturali non hanno sortito risultato sperato questi sono catture così come vedete sotto i convenzionali addirittura tre interventi con prodotti di efficacia contro i giovani discafodiostitano non hanno sortito l'efficacia sperata intanto se andiamo a vedere le date di trattamento come vedete sono non conformi a quello che è stato la fenologia dell'insetto e probabilmente anzi sicuramente in questo caso c'è stato un ritardo nell'esecuzione ecco quindi l'importanza dello studio della fenologia ma poi è anche emerso da questa indagine e guardate voi sapete tutti non voglio perdere rubare tempo che gli inseticidi tendenzialmente hanno due effetti hanno un effetto topico è un effetto residuale l'effetto residuale è quello che si ha sulla foglia trattata con l'insetto ci si posa sopra e in qualche modo c'è l'assorbimento ecco diciamo che poi eventualmente invito la dottoressa casalini entrare nel dettaglio perché anche qui è evidente che è diverso dalla famiglia chimica ma se noi con una semplice sperimentazione mettiamo prima gli animali e trattiamo o trattiamo e mettiamo dopo gli animali noi riusciamo a distinguere questi due effetti e gli effetti soprattutto per i botanicals o quelli ammessi in viticoltura biologica è evidente se colpiscono l'insetto l'inseticida di agisce cosa che invece non fa se per effetto residuale proprio perché i fitofarmaci a disposizione attualmente hanno sono molto selettivi ma hanno anche queste particolarità che molti di essi funzionano quasi esclusivamente se non maggiormente per contatto diretto e non hanno nessuna azione residuale banale mi dite sì però considerate che lo scafoideostitano vive sotto la pagina inferiore della foglia quindi in una spagliera o in una forma di elevamento è importantissimo la gestione della qualità dell'irrorazione intesa non solo come volume di irrorazione ma anche come adeguato orientamento degli ugelli avanzamento volume d'aria pressione portata e tutto quanto che può essere facilmente valutato a un prezzo economico con l'uso delle cartine idrosensibili un altro aspetto molto importante è da considerare che noi andiamo a trattare un animale che cambia l'etologia da giovane ad adotto i giovani tendenzialmente vivono nascendo in prossimità del tronco e avendo bisogno di tanto azoto loro vanno diciamo preferibilmente su le parti che sono verdi in attiva crescita nel caso specifico i polloni abbiamo dimostrato che la spollonatura ha un effetto sulla densità di popolazione che se noi andiamo a spollonare di fatto otteniamo una forma di lotta agronomica se volete anche di bassa entità per carità 10 15 per cento ma che in una gestione integrata aiuta ma oggi voglio voglio portare la vostra attenzione su questo fatto che abbiamo osservato l'anno scorso guardate questo video fatto dal dottor posenato è la un ceppo di vite su una pergola vedete lo scafoglio titanus di fatto lo usa come un ascensore a seguito di cosa sto il vigneto oggetto in una densità di popolazione molto alta avevamo tre quattro individui per foglia questa è la quantità di pioggia guardate dopo una pioggia abbattente i giovani sono caduti i giovani sono caduti e sono per qualche giorno li abbiamo trovati come vedete qui sul trifoglio parassaco su piante di cotiledoni quindi è vero che è monofago ma per qualche giorno vive bene nel cotico orboso oppure dopo questa pioggia di 50 millimetri guardate abbattuto da 4 a 1,5 è chiaro che se io sono intervenuto fosse intervenuto il giorno dopo la pioggia correttamente per difendere la peronospora avrei di fatto mancato se non perfetto di deriva che cade di colpire l'insetto e quindi torniamo alla qualità dell'applicazione in considerazione della presenza dei polloni e dell'evento meteorologico che può in qualche modo influire sulla presenza dell'insetto velocemente poi dobbiamo considerare anche la che gli adulti è stato dimostrato dal gruppo di torino due anni fa sono in grado di acquisire di fare la latenza e di trasmettere in pochi giorni quindi è chiaro che rispetto al dottor armentano mi diceva se ci sono novità se l'insetto è cambiato dobbiamo rivalutare anche la presenza e l'importanza degli adulti non solo quelli che eventualmente sfuggono ma anche ai rei migranti e che ad evento sfuggono nei vigneti non adeguatamente trattati ricordiamoci lo presento sempre questo ottimo lavoro dell'università degli studi di udine e la percentuale di riduzione della popolazione di schiafodio titanus è in relazione non al singolo o al doppio intervento ma la percentuale di superficie olivi viticola trattata ancora una volta si dimostra che la flaviscenza dorata è una malattia da ambientale che deve essere gestita a livello di comprensoria questo vigneto come vedete subisce queste fallanze l'effetto di questo vigneto non è adeguatamente trattato e quindi e concludo ringraziando per l'invito per il contenimento della flaviscenza dorata la cosa fondamentale è il monitoraggio il monitoraggio che ci dà l'idea di dello stadio di sviluppo della densità di popolazione quindi quando intervenire con il primo trattamento e soprattutto è di fondamentale importanza per decidere se fare il secondo se fare il terzo eventualmente in condizioni di con prodotti che hanno una bassa persistenza e al limite se intervenire con gli adulti caro gianantonio spero di aver soddisfatto almeno in parte le tue curiosità e ti lascio la parola grazie grazie nicola grazie perché veramente ma intanto mi hai fatto capire che anche io sono vecchio perché anch'io ricordavo appunto il posizionamento dell'insetticida attorno al 20 di giugno e con i vecchi prodotti si potevano fare diversi target e da quello che ho capito questa sera invece è tutto cambiato l'importanza della conoscenza della formazione quindi sono elementi chiave poi ne parleremo anche con silvia l'importanza di conoscere i diversi prodotti sono prodotti sempre più tecnici e quindi bisogna veramente saperli posizionare nel momento giusto e quindi direi che di cose nuove ce ne raccontate veramente tante io già al di là delle mie domande che sono sempre tantissime diverse domande anche da parte di chi ci sta ascoltando da casa però andiamo con ordine passiamo enrico marchesini enrico con te invece vorrei parlare di cocciniglie e quindi affrontare un'altra un altro tema che crea delle criticità per i viticoltori a livello nazionale quindi con te vorrei fare un po' un escursus di quelle che sono le specie maggiormente presenti e anche con te ti chiedo che cosa c'è di nuovo sulle cocciniglie quali sono quelle più temibili sì buonasera a tutti ringrazio anch'io dell'invito per trattare questo argomento che riguarda le cocciniglie della vite diciamo tra vecchie conoscenze e nuovi invasori perché in effetti possiamo proprio dire che e le cocciniglie della vite appartengono a tre raggruppamenti importanti i pseudococidi chiamati anche cocciniglie farinose i cocidi o cocciniglia a grano e i diaspidi cocciniglia a scudo tra i pseudococidi abbiamo tre importanti specie che tratteremo questa sera negli ococcus boemicus il planococcus ficus e pseudococcus comstocki mentre invece tra i cocidi abbiamo specie come la neopulvinaria innumerabili se il parte non le cani uncorni e la pulveraria vitis nell'ambito di diaspidi abbiamo che sono cocciniglia a scudetto la targione a vitis guardate queste specie hanno un comportamento diverso perché nei pseudococidi sono mobili sia gli stadi giovanili che gli adulti e questo ha un'influenza importante anche sulle strategie di difesa poi lo vediamo invece nel caso dei cocidi sono mobili solo gli stadi giovanili mentre diciamo gli adulti sono fermi nei caso dei diaspini sono poco mobili anche gli stadi giovanili ma i pseudococidi attirano la nostra interesse anche per un altro motivo si stanno diffondendo in molte aree viticole italiane non solo del centro sud ma anche del nord Italia e questo a causa dei cambiamenti climatici in modo particolare dell'aumento della temperatura soprattutto della presenza di inverni miti che diciamo permettono la sopravvivenza delle forme svernanti e quindi queste cocciniglie farinose stanno diventando veramente importanti ma cominciamo con una vecchia conoscenza eccolo qua il coccide partendo le cani uncorni chiamato anche cocciniglia del corniolo perché oltre che sulla vite va sul corniolo qui in questa immagine vediamo le femmine proprio in questo periodo le femmine svernanti che stanno diciamo così di diversa età che stanno maturando per arrivare alla maturità ecco questa è la fenologia che abbiamo rilevato lo scorso anno di parte non le cani uncorni vedete quindi la presenza degli stadi giovanili che svernano il fatto che ormai a fine aprile primi di maggio abbiamo le femmine adulte è un momento particolarissimo importante è la comparsa naturalmente delle uova sotto lo scudetto e poi la nascita delle neanidi e la migrazione delle neanidi eh sì è proprio questo il momento particolare perché la nascita delle a delle neanidi è il momento in cui noi dobbiamo eventualmente applicare degli insetticidi in quanto come possiamo vedere dal video che se riesco a inviare e questa nascita delle neanidi è quello che ci permette di trattare quando ci sono diciamo gli stadi più vulnerabili cioè quelli che si muovono che vedete hanno delle zampette e da sotto la corteccia della vite sono nate dal dallo scudetto femminile si portano sulla pagina inferiore delle foglie questi sono eh stadi vulnerabili che si muovono poi a un certo punto perdono le zampette si fissano infilano il rostro all'interno eh della foglia e cominciano a nutrirsi poi quando cominciano a formarsi lo scudetto diventa molto più difficile contenerli per cui il momento importante per l'applicazione degli insetticidi è proprio alla migrazione delle neanidi ma possiamo dire c'è anche in questa cuciniglia come in altre c'è sempre un stretto rapporto con le formiche l'estetto rapporto con le formiche perché c'è una simbiosi in questo caso guardate le formiche con le a con le antenne vanno a stimolare la produzione di melata da parte della cuciniglia e perché loro ne vanno ghiotte di melata per cui noi sappiamo che eh questo rapporto diventa importante da seguire pensate che quando noi facciamo i rilievi sulle cuciniglie per trovare la presenza delle cuciniglie andiamo in cerca delle formiche dove ci sono le formiche in genere ci sono le cuciniglie parliamo anche rapidissimamente di una nuova specie di una specie diciamo la neopulvinare innumerabilis che eh è meno diffusa che però si riconosce bene perché eh vedete la femmina che ha uno è una femmina grossa eh lo scudetto addirittura si alza perché guardate la 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 diciamo il sacco vigero che dimensione il numero di uova migliaia di uova presenti all'interno di questo sacco e poi il rapporto sempre stretto con le formiche e questa è una specie presente in Veneto filo Venezia Giulia Lombardia che però ha una diciamo svolge una sola generazione e ha un'importanza relativa dal punto di vista del danno ma arriviamo invece a quelli che sono le eh cuciniglie eh farinose i pseudococidi perché sono quelle che ultimamente ci danno i maggiori problemi allora è importante anche quando si va in campo riuscire a distinguere queste tre principali specie il Pranococcus ficus vedete è una cuciniglia che è ricoperta di pruina biancastra però ha la caratteristica di avere dei corti raggi cerosi sono diciotto paia lungo vedete tutto il corpo mentre invece gli ococus boemicus è caratterizzato da questi lunghi sottili filamenti dorsali e invece il pseudococcus comstocki si distingue per queste due codine cioè per due lunghi raggi cerosi anali però vi faccio vedere e al volissimo delle eh video che ci aiutano a distinguere ecco qua una femmina matura che ha prodotto lo visacco ceroso bianco dove all'interno ci sono le uova da cui sono nate le neanidi adesso questo si sta verificando in questi giorni e la migrazione delle neanidi da sotto la corteccia alla pagina inferiore delle foglie basali ma questa è una specie che non si ferma neanche l'adulto vedete è sempre mobile pensate passa a un certo punto sulla terza generazione all'interno al dentro nel grappolo ma quando siamo in questa condizione questa nascita delle neanidi che avviene direttamente nel grappolo qui la situazione diventa difficile anche il contenimento perché anche con insetticidi raggiungere un grappolo già chiuso è ormai troppo tardi quindi tutto il nostro preoccupazione tutta la nostra strategia di difesa deve prevenire questo momento dell'infestazione sul grappolo perché altrimenti è troppo tardi dobbiamo lavorare assolutamente prima perché altrimenti non ce la facciamo guardiamo invece gli ococcus boemicus vediamo se queste immagini ci aiutano a vedere la differenza di queste di questa specie di questa specie che ha vedete queste femmine presentano dei raggi dorsali vedete molto lunghi questi filamenti molto lunghi questa è una femmina vedete guardate questi filamenti di queste femmine ma è una specie particolare perché non produce lo visacco ceroso come fa planococcus ficus ma pensate e le uova vedete nascono all'interno del corpo della femmina ed escono direttamente è un nuovo vivipara per cui se voi non trovate lo visacco vicino alla femmina ma direttamente le neanidi significa che non si tratta di planococcus ficus ma di pseudococcus di heliococcus boemicus come vediamo in queste immagini infine vi faccio vedere una specie che diciamo è piuttosto recente ma negli ultimi anni ha dato di grossi problemi in diverse regioni non solo in veneto ma anche in emilia romagna e anche in trentino si tratta di pseudococcus compstocki una specie nota su altre piante come il melo il pesco il kiwi che però ultimamente vi ripeto in questi ultimi anni ha dato di problemi qui vediamo della compattazione di terra da parte delle formiche dove pensate allevano dentro le le femmine questa ecco una femmina con lo visacco pieno di uova di colore giallo intenso fino all'arancione qui vediamo una femmina con le cudine su direttamente su grappolo qui vediamo uno visacco ancora ed è c'è un momento molto importante eccola qua la nascita delle neanidi la nascita di un organismo nuovo è sempre un momento delicato un momento importante per noi capire la nascita delle neanidi è importante qui guardate abbiamo le femmine direttamente nel all'interno del grappolo anche questo quando si verifica e siamo in questa situazione guardate lo schizzo di melata di questa femmina all'interno del grappolo perché la produzione di melata in questo caso è abbondantissima con la formazione poi di fumagine ma ripeto quando siamo in queste condizioni di infestazione al centro all'interno del grappolo ormai è troppo tardi per un efficace contenimento di questa specie bisogna assolutamente lavorare prima e guardiamo la fenologia perché come è stato detto anche per altri insetti la fenologia il monitoraggio di questi insetti diventa importantissimo perché lo sviluppo delle diverse stadi dipende molto dall'andamento climatico e vedete adesso planococcus ficus svernano le femmine di diversa età a un certo punto si producono le uova e adesso dove siamo ai primi di maggio siamo alla presenza delle neanidi e alla migrazione delle neanidi fatta la prima generazione arriverà una seconda generazione che come vedete si sviluppa a cavallo tra giugno e luglio per le uova e nel mese di luglio per gli stadi giovanili e poi ci sarà una terza generazione e anche qui è molto importante che cosa quando posizionare una efficace difesa con insetticidi perché bisogna puntare sempre sulla fase di migrazione delle neanidi che sono gli stadi più vulnerabili qui diventa ancora più difficile rispetto a prima perché questa è una specie mobile mobile non solo nelle neanidi nei giovani ma anche negli adulti quindi bisogna essere sempre molto attenti a quello che succede e alle diverse fasi di sviluppo. Infine ecco la fenologia di pseudococcus constocchi questa specie diciamo questo nuovo nuovo arrivo sulla vite che i tecnici ma anche i viticoltori quando si rendono conto che il loro vigneto è occupato è infestato da pseudococcus constocchi sanno che il problema è importante. Vedete che in questo caso sverna non i giovani non gli adulti ma gli ovisacchi noi abbiamo trovato svernanti solo gli ovisacchi da questi nascono le neanidi di prima età siamo a cavallo tra aprile e maggio quello che si sta verificando in questi giorni e queste neanidi si stanno trasferendo da sotto la corteccia della vite alla base dei germogli e sulle foglie basali e poi si avverrà vedete verso fine maggio lo sviluppo delle neanidi di seconda e terza età con la formazione delle femmine in giugno e anche in questo caso vedete lo sviluppo di una seconda generazione tra giugno e luglio e di una terza generazione tra agosto e settembre ma anche in questo caso la mobilità di questo di questa specie noi dobbiamo intervenire possibilmente prima del trasferimento del eh di questi individui sul grappolo perché poi colpire a questa eh popolazione all'interno del grappolo diventa difficile ed ecco guardate questo ultimo dato che vi volevo presentare allora qui siamo a fine aprile fino a metà maggio troviamo presenza di giovani sulle foglie basali poi cosa succede da fine maggio fino a la prima decada di giugno pensate questi anche gli stessi individui si trasferiscono e ritornano sotto il retidoma della vite si riparano lì ok per produrre un'altra generazione e da lì riprende ritornano fuori e vanno sulle foglie su tutto la lunghezza del germoglio su tutte le foglie e lì si sviluppano e danno origine a un'altra generazione per poi siamo alla terza decada di luglio trasferirsi quasi definitivamente sul grappolo dove danno origine a una generazione che eh dal grappolo si sviluppa per poi le femmine mature ritornare a eh sulla base dei germogli e sotto la corteccia produrre lovisacco che sarà lovisacco che darà o che passerà l'inverno e quindi eh però qui è il problema se l'inverno sono inverni non rigidi queste uova svernanti riescono a sopravvivere e quindi a mantenere una densità di popolazione importante per la primavera successiva quindi come potete osservare anche in questo caso il monitoraggio dello sviluppo dei singoli stadi è determinante nei diverse stagioni per fare una attenta e efficace strategia di difesa con questo io vi ringrazio della attenzione e eventualmente sono a disponibile per approfondimenti o domande. Grazie Gian Antonio. Grazie Enrico. Grazie. Come sempre complimenti per i tuoi video che sono sempre spettacolari e eh sei fatto anche tu un quadro completo di quelle che sono le eh cocciniglie che possono determinare problemi alla vite. Abbiamo capito ancora una volta l'importanza del monitoraggio questa è una parola chiave veramente per la difesa di tutti eh gli insetti ma non solo sappiamo che il monitoraggio è fondamentale per tutte le avversità di tutte le culture. Fino adesso però abbiamo parlato di criticità ora passiamo a quelle che sono le soluzioni che vengono proposte da Bayer. Eh Silvia eh coinvolgo te eh tu ci parlerai di tre soluzioni eh abbiamo eh un un prodotto recentemente lanciato Sivanto, un prodotto che è presente sul mercato da qualche anno, il Movento e poi Flipper che è un'altra novità. Raccontaci un po' quelle che sono le caratteristiche di queste tre soluzioni ma soprattutto eh ti chiedo di dare delle indicazioni veramente pratiche su come vanno impiegati verso i diversi target. sì grazie a tutti spero che vediate il mio schermo e quindi sì nei prossimi venti minuti eh cercherò in maniera super sintetica di darvi delle informazioni di rilievo su queste tre soluzioni insetticide per la vite. Sivanto che è il nostro prodotto registrato contro le cicaline e in corso di estensione su cocciniglie e su filossera. Movento eh il nostro prodotto registrato contro cocciniglie, filossera e afidi e Flipper eh la nostra novità biologica eh registrata contro cicaline, acari e tripidi. Inizio con Sivanto che eh è stato registrato nel duemiladiciannove ed è diventato in un paio di anni un po' un eh riferimento in viticoltura soprattutto nelle zone che sono colpite da scapoideus. Questa è la scheda tecnica del prodotto, parliamo di flupo irradifurone, di una nuova famiglia chimica, quella dei butenolidi, un formulato liquido eh che è registrato su numerose colture. Eh per quanto riguarda la vite abbiamo attualmente la registrazione su cicaline e abbiamo come dicevo prima in corso di registrazione anche le cocciniglie e la filossera. Si applica per quanto riguarda scofoideus titanus a eh mezzo litro ettaro un trattamento l'anno. Eh vediamo se gira la mia presentazione. Gira, sì. Le caratteristiche distintive del prodotto cercato di riassumerle in una slide. Sivanto ha attività sia sistemica che traslaminare. Di conseguenza è un prodotto che eh riesce a conferire una protezione immediata ma anche duratura di tutta la pianta. È un prodotto che ha una buona resistenza di azione. Abbiamo visto attività anche fino a venticinque giorni dalla sua applicazione e una buona resistenza al dilavamento. Abbiamo visto eh in alcune prove efficacia del cento per cento anche dopo ehm dopo piogge di venti millimetri per esempio a due ore dal trattamento. La caratteristica di Sivanto che poi eh illustrerò anche nella slide dopo è la massima rapidità di azione. Quindi ha un'attività molto veloce di interruzione dell'attività trofica dell'insetto e questo è molto importante perché evita chiaramente la trasmissione di teoplasmosi o di virosi alla pianta. Abbiamo fatto numerose prove sia su scafoidaus titanus sia sui giovani che sugli adulti avendo eh degli ottimi risultati di efficacia ma non solo scafoidaus titanus anche la nuova eh cicalina che è imperversa eh nel nord-est d'Italia l'erasma neurovulnerata e abbiamo anche eh discrete esperienze sulle cocciglie dicevo il prodotto è in estensione. Eh ultimo ma non ultimo punto eh la eh selettività del formulato eh un formulato che rispetta gli impollinatori e i principali insetti utili del vigneto e ho una slide dedicata anche su questo argomento. Dicevo eh la caratteristica di ehm prontezza di azione del Sivanto che eh noi abbiamo brandizzato con questa eh questo slogan il fast feeding cessation cioè l'interruzione dell'attività trofica del del formulato sostanzialmente Sivanto in meno di dieci minuti riesce a interrompere l'attività di eh di suzione degli insetti. Questo è molto importante per i per interrompere la trasmissione appunto di virosi o fitoplasmosi. Dicevo il rispetto degli insetti utili. Un insetticida moderno oggi assolutamente non può esimersi da eh questa caratteristica di selettività data anche eh ormai la mh il fatto che si fanno sempre più lanci di insetti utili in viticoltura. Qui vedete una tabella della ehm IOBC con la classificazione IOBC in cui eh si fa vedere la selettività su vari insetti utili. Noi abbiamo fatto anche delle esperienze eh proprio dirette proprio in collaborazione con Agrea eh su Campimodromus aberrans che è considerato oggi un po' la carofidoseide più affidabile per esempio per il controllo biologico degli acari tetranichidi e degli eriofidi in viticoltura e abbiamo avuto degli ottimi risultati ma non solo eh fitoseidi anche coccinelli di meno di parassito i meno teri parassitoidi e abbiamo anche delle eh prime esperienze molto confortanti sulla selettività eh di Sivanto verso l'Anagirus pseudococci che è un parassitoide del planococcus ficus quindi un un profilo veramente ehm verde diciamo così per quanto riguarda la selettività sui utili. Una prova veloce qui una prova fatta sempre in collaborazione con ehm Agrea su Erasmoneura vulnerata un'applicazione fatta il ventisette di luglio vedete la linea viola l'abbattimento della popolazione che inizia a risalire dopo un mese dal trattamento quindi efficace anche contro questa eh cicalina. Il posizionamento tecnico subite diceva prima al dottor Mori non esistono le date e infatti io l'ho scritto nel riquadro che ho evidenziato l'impiego sullo scafoide si basa si effettua in base al monitoraggio e alle indicazioni degli enti ufficiali assolutamente monitoraggio fondamentale come è già stato ampiamente detto. Eh in questo posizionamento eh noi consigliamo il posizionamento contro le fasi giovanili di eh scafoideus per eh avere un abbattimento proprio precoce della popolazione evitando poi danni gravissimi successivi eh alla vite. Ehm chiaramente ho scritto anche che il prodotto è efficace sugli adulti e quindi poi la scelta eventuale del posizionamento è in mano ai tecnici. Comunque eh abbiamo avuto degli ottimi risultati anche grazie alla lunga resistenza di azione andando a posizionare Sivanto nel primo eh trattamento contro scafoideus. Super rapida su Sivanto parlando di cicaline però vi devo anche citare la nostra soluzione ammessa in agricoltura biologica Flipper. Flipper è un insetticida di origine naturale deriva dall'olio d'oliva stiamo parlando di sali potassici degli acidi grassi un'etichetta molto ampia molte eh colture registrate. Subite stiamo parlando di controllo di cicaline, acari e tripidi. Ho messo cocciniglie tra parentesi perché eh l'anno scorso abbiamo fatto delle esperienze subite da tavola in cui abbiamo visto una certa efficacia anche contro Canococcus ficus. Eh modalità di impiego un per cento ammessi fino a cinque trattamenti l'anno. Il meccanismo di azione è multiplo non ancora perfettamente conosciuto. Flipper è un prodotto che funziona per contatto. Questo è fondamentale dirlo. Quindi eh l'insetticida deve essere correttamente distribuito e deve raggiungere l'insetto. Una volta che entra in contatto con l'insetto si ha una penetrazione attraverso gli strati cuticolari e con questa penetrazione si ha un'interferenza con i principali processi metabolici dell'insetto che come conseguenza eh si ha la eh praticamente eh lo stop dell'attività trofica anche in questo caso e quindi l'insetto non si alimenta più e non può più arrecare danni sia alla cultura che sia diretti alla cultura che indiretti come quelli di trasmissione di virosi e fitoplasmosi. Questa è una proposta in agricoltura biologica. Noi consigliamo una duplicazione a sette giorni. Il prodotto è posizionabile eh sia sugli stadi giovanili che sugli adulti considerando che stiamo parlando di un prodotto mh che funziona per contatto e eh non si può quindi pretendere lo stesso livello di efficacia di prodotti eh che funzionano mh diversamente come prodotti per esempio sistemici. In questo caso la qualità della distribuzione lo diceva già il dottor Mori è fondamentale mh più che mai la bagnatura ma non solo la bagnatura bisogna assolutamente orientare gli ugelli dove si trovano gli insetti quindi eh abbiamo visto sui polloni eh per esempio nel caso delle fasi giovanili e fare una eh appunto usare un volume d'acqua eh adeguato. La selettività assolutamente importante distingue eh flipper da per esempio le piretrie naturali che sono molto utilizzate in agricoltura biologica ma assolutamente sappiamo non essere selettive invece anche in questo caso classificazione IOBC vediamo la buona selettività di flipper. Anche in questo caso abbiamo fatto delle esperienze molto positive sul eh campimodromus aberrans e anche sul eh tiflodromus quindi alla fine eh il viticoltore ha a disposizione uno strumento in più che eh è ammesso in agricoltura biologica ma si integra perfettamente anche in una strategia integrata è un prodotto esente da residui normati non ha tempo di carenza e rispetta l'ecosistema del vinto. E adesso cambio insetto e parlo di eh controllo della cocinigia e quindi parlo di Movento. Movento è ehm una delle nostre Ferrari così le chiamiamo in azienda eh tra gli insetticidi eh è un prodotto che ha eh ampio utilizzo in frutticoltura ma il suo utilizzo sta crescendo anche in viticoltura a causa dell'espansione appunto della problematica delle cociniglie in particolare ma anche della filossera. Stiamo parlando di una sospensione concentrata registrata su oltre quaranta colture un'etichetta molto ampia molto completa su vite eh dicevo la registrazione su cociniglie su filossera e su afidi. La dose di impiago un litro e mezzo ad ettaro per due applicazioni ammessi all'anno. Il meccanismo di azione di di Movento è molto particolare perché eh funziona solo per ingestione e non per contatto. Nel senso che lo spirotetramat c'è la il principio attivo di Movento non è la forma attiva contro gli insetti. È la forma che viene assorbita dalla pianta e poi all'interno della pianta viene trasformata in spirotetramat enolo che si redistribuisce all'interno dei vasi e viene ehm assorbita dagli insetti che si nutrono dei contenuti cellulari ed è in quel caso che eh ha azione insetticida. E va da sé che questa caratteristica che il prodotto non abbia azione eh per contatto lo rende un prodotto veramente selettivo nei confronti di tutti quegli insetti utili predatori che si nutrono di altri insetti. Caratteristiche distintive stiamo parlando anche qui di una famiglia chimica unica sul mercato i cheto enoli quindi un meccanismo d'azione che è strategico per la gestione eh delle resistenze. La doppia sistemia del prodotto cioè un prodotto che è capace di circolare sia nell'oxilema che nel foema e questo lo rende unico sul mercato e che cosa implica questo? Implica che abbia una durata d'azione molto prolungata anche un mese eh di durata d'azione dalla sua applicazione che riesca a proteggere tutti gli organi anche quelli più nascosti vedi le radici e quindi molto utile nel caso di insetti subdoli che si vadano a nascondere in organi che sono difficilmente raggiungibili dagli insetticidi eh tradizionali eh il fatto che abbia questa doppia sistemia lunga durata d'azione consente di proteggere anche la vegetazione che si sviluppa dopo il trattamento e eh come dicevo prima una selettività spiccata sugli insetti utili in particolare abbiamo dei dati per quanto riguarda l'anagirus e il criptolemus che sono dei predatori naturali delle cocilie. Quindi qui ho riportato di nuovo la classificazione IOBC da cui eh si può si capisce l'elevata selettività su questi al troppo di utili che si nutrono dei parassiti loro prede e non delle piante trattate con Movento e quindi sfuggono all'azione insetticida di Movento. E eh vado alla proposta insetticida questa è una prima proposta ehm suggeriamo di posizionare Movento a partire dalla post fioritura contro cociniglie e filossera normalmente per quanto riguarda Planococcus ficus e Comstocki andiamo ad intercettare la seconda generazione in questo modo. Successivamente eh intervenire eh con Sivanto eh anche qua eh monitorando chiaramente eh le l'insetto e seguendo le indicazioni degli enti ufficiali contro Cicaline e cociniglione. Oppure un'altra proposta ehm che vi facciamo è questa è quella che integra a Movento e Sivanto anche la soluzione biologica di origine naturale Flipper. Eh questa è una proposta per un viticoltore che ha esigenze magari di ridurre il carico chimico in vigneto e quindi utilizza un prodotto di origine naturale senza residui eh normati eh che può essere applicato contro Cicaline in questo caso contro eh i primi stadi eh con efficacia anche su acari che è un problema eh che sta crescendo in viticoltura ehm a causa del ritorno all'uso massiccio di piretroidi quindi eh gli acari stanno purtroppo di nuovo crescendo e in questo caso si sposta più avanti il trattamento eh con Sivanto che dicevamo prima anche una buona efficacia contro gli adulti. Quindi chiaramente poi la scelta dei prodotti e delle strategie va assolutamente tarata in base alle condizioni del vigneto e eh alla pressione dei vari insattitari. E io con questo spero di essere rimasta nei tempi e ho concluso. Perfetto Silvia sei rimasta perfettamente nei tempi. Eh grazie per averci illustrato queste tre eh proposte di Bayer per quanto riguarda la difesa da eh Cicaline e da eh Cocciniglie e direi di aprire adesso una parte di dibattito. Sono arrivate diverse domande e partirei proprio da te Silvia perché eh è una una domanda che poi vi potrete eh diciamo spalleggiare tu e Nicola Mori. Ehm viene chiesto qual è il quantitativo di acqua da distribuire ottimale? Ne avete parlato sia tu che eh Nicola e eh la domanda è proprio nello specifico per quanto riguarda i sistemi di allevamento a spalliera. Però dalla vostra esperienza quali sono i quantitativi ottimali per esempio per eh le vostre soluzioni insetticida e poi invece a Nicola poi entriamo un po' più in dettaglio da un punto di vista proprio prettamente eh tecnico. Eh sì allora per quanto riguarda le nostre soluzioni eh chiaramente le indicazioni sono tutte eh riportate in etichetta eh per esempio per quanto riguarda eh Sivanto si suggeriscono ottocento litri d'acqua eh in etichetta poi eh si può anche andare a basso volume quindi si può scendere sui cinquecento e l'importante è rispettare in quel caso la dose a ettaro quindi eh in etichetta sono riportati dei volumi che magari in alcuni areali possono sembrare anche alti perché adesso la tendenza è sicuramente quella di andare a basso o un trabasso volume ehm l'importante per il basso volume è rispettare sempre la dose a ettaro sia eh per Sivanto che per Movento e per Movento eh si va da settecentocinquanta litri d'acqua in su ehm si può anche qui andare a cinquecento litri mh basso volume si sconsiglia però in questo caso l'ultra basso volume per una questione proprio di anche di performance della soluzione quindi ehm considerando che poi in Movento viene consigliato anche abbinato a olio minerale per avere una maggiore efficacia sul proprio sulle cocciniglie l'ultra basso volume eh è sconsigliato eh per Flipper è un'altra storia è un'altra storia che stiamo parlando di un prodotto che funziona per contatto e quindi bisogna bagnare io capisco la tendenza a ridurre volumi d'acqua e la la provo nell'ambito del rispetto de di questa risorsa importante però eh se abbiamo a disposizione queste armi che eh alcune appunto funzionano per contatto è fondamentale bagnare e quindi qua si consigliano 600 da 600 a 800 litri eh d'acqua per la natura io non andrei troppo troppo sotto. Nicola dalla tua esperienza visto che tu hai citato proprio questo il problema di di bagnare per riuscire a colpire eh lo scafoideo. però non bisogna fare confusione permettimi Gian Antonio. Alta quantità di acqua distribuita non significa buona qualità di distribuzione. Ok. Perché io ho avuto esperienze in areali del nord del centro del nord Italia dove l'attenzione e la qualità delle macchine eh con quattrocento litri ettaro eh e usando le cartine idrosensibili non abbiamo avuto differenze significative in termini di efficacia con volumi pari a ottocento. Quindi mi ritrovo d'accordo di usare eh gli alti volumi però non farei questa generalizzazione. Basso volume non significa scusa alto volume non significa buona qualità. Eh adesso gli strumenti che abbiamo eh sono tali per cui oltre al volume bisogna ragionare di pressione, di esercizio, velocità di avanzamento, volume d'aria. Non voglio non rispondere Gian Antonio tu mi conosci. È che non vorrei minimizzare. Cosa vuol dire ottocento litri ettaro? Se magari hai degli ugelli a cono che spruzzano delle gocce grandi così e a fianco hai una macchina che ha recupero, ti fa cinquecento litri ettaro come diceva la dottoressa Casalini che ti fa le gocce fini 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 e ti copre tutta la foglia. Quindi anche qui io non ragionerei ragionerei proprio per qualità di distribuzione. Gli strumenti che abbiamo sono tali per cui al giorno d'oggi 2021 è facile fare fare una 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 verifica del proprio. Se dopo devo rispondere meglio alto volume ecco quindi se devo però vorrei sottolineare alto volume non significa qualità di distribuzione. Bene Nicola adesso parto a Raffica con una serie di domande per te sulla sulla Flavescenza. Allora lotta obbligatoria alla Flavescenza. Com'è la situazione in questo momento? Parliamo di Regione Veneto. Allora tu sai che dal 2000 ogni decreto recita che ogni anno è compito di servizi fitosanitari regionali annualmente emanare questo decreto. Quindi il decreto a valenza regionale e ogni regione indica penso che fra un mese ogni dirigente farà il 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 proprio decreto. Sicuramente nel 2021 verrà considerato tutto il lavoro sto parlando in Veneto che è stato fatto nel 2020. Eh tutti i tecnici delle più grandi realtà eh viticole eh Veneto hanno collaborato quindi abbiamo una buona distribuzione della mappa ehm di come è distribuito lo scafuideus titanus. Adesso dirti non so uno o due interventi insetticidi dove obbligatorio è chiaro che questo non è compito mio deciderlo però mi sento anche sicuro nel dire che rispetto a un 2020 il 2021 abbiamo dei dati corposi e eh gestiti in maniera adeguata che spero continuino anche nel 2021. Altra domanda tu hai parlato di una gestione comprensoriale della Flavescenza e se questo non succede? Vuoi mettermi in difficoltà oggi? voglio mettermi in difficoltà assolutamente. Allora dipende dalle competenze territoriali tu sai allora se c'è l'obbligo del trattamento l'obbligatorietà delle leggi prevede anche un articolo del codice civile che legifera chi non fa il trattamento a cosa va incontro e gli organi competenti ci sono. Il problema è invece dove la decisione viene lasciata all'operatore. Quindi dove è legiferato per legge il codice civile e la legge italiana e il ricepimento regionale sono ben specifici. Ai noi è dove invece la legge dice o perché c'è poco scaffo di un citano scusate o perché non è presente la Flavescenza rata o perché non viene considerata appunto sufficientemente distribuita sul territorio da creare che allora lì. Però Gian Antonio in questo caso dove non c'è la legge è il buon senso nel senso che non si può obbligare una cosa se non è legiferata. Allora qui è avuto successo e qui racconto un po' la sensibilità qui il dottor Posenato potrebbe fare un racconto parlo di Veneto ma così anche come Giovanni Bosio cito perché è una cara persona in Piemonte la Lombardia Mariangela Ciampiti è chiaro che all'inizio fra così friule Venezia Giulia e mi scuso per gli altri che non sto citando è chiaro che lì anche la pressione delle cooperative delle associazioni di categoria e soprattutto delle cantine giocano un ruolo molto importante perché dove non arriva la legge può arrivare la cooperativa di primo o secondo o terzo grado chi sia cioè io come allora privato su privato posso non obbligarti ma in qualche modo spingerti fortemente a farlo ok non so se ti ho risposto sì 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 assolutamente miglior periodo per togliere i polloni questa è una domanda molto interessante e veramente allora che io rispondo è perché aspettare che crescono i polloni ok perché dobbiamo aspettare che crescono i polloni perché abbiamo poco tempo ok allora lo capisco va bene allora se abbiamo una cartuccia sola da fare è in relazione all'insetticida quindi decido l'epoca di è chiaro che io devo considerare la spollonatura aspettare che l'insetto risaiga e poi trattare bene quel volato adeguato volume di aurorazione e tutte le tarature che si diceva se invece posso usare un spollonante chimico o perché il disciplinare lo prevede o un manodopra disponibile è meglio non averli polloni quindi la risposta è in relazione alla data di insetticida ma il consiglio è no polloni no polloni molto chiara altra domanda un trattamento prefiorale e con piretro o piretroidi potrebbe avere senso in relazione alla minor mobilità dello scafoideo e alla sua maggior sensibilità della cicalina all'insetticida inoltre l'eventuale azione negativa sui fitoseidi potrebbe essere meno impattante poi in privato ti dirò chi è questo relatore sì questo spettatore che ha fatto la domanda lascio a Enrico i fitoseidi sennò è geloso quindi lascio a Enrico i fitoseidi che ha molto più esperienze di me allora il discorso della fioritura è una fase fenologica molto importante anche qui è legiferata se non dalla normativa nazionale dalla normativa locale fiori significa promobi fiori intesi non solo della vite ma anche del cotico arboso quindi quando noi parliamo di fiori l'attenzione alla biodiversità funzionale che si sta ponendo in questo periodo dobbiamo stare attenti all'equilibrio dell'intero agroecosistema quindi sicuramente chi ti ha fatto la domanda è un tecnico preparato perché la domanda è ovvia quindi chi è fatta da un tecnico preparato quindi bisogna evitare il periodo della fioritura per legge evitare il discorso del cotico erboso che in questo momento è molto utile per il contenimento ecco io ok dipende dallo stadio finologico dell'insetto nel senso che deve esserci almeno considerando che abbiamo una schiusura di 45 50 giorni anticipare troppo il trattamento può essere pericoloso perché vuol dire che tu hai già deciso di farne due quindi pensare di intervenire in prefioritura tu hai già messo in calendario che vuoi farne due allora in questa strategia no è chiaro che l'insetto più giovane è e più avete visto anche la dottoressa casalini meglio funziona insomma dall'altra parte è più sensibile però allora in questo in questo in questa strategia non dobbiamo considerare l'effetto solo del singolo trattamento ma dell'intera strategia che pensando di fare prima della fioritura è già ipotizzato essere meno due quindi al piretroide che può andar bene in quella fase di cosa segue e qua allora ecco le limitazioni di etichetta le limitazioni disciplinari eccetera quindi linea di principio ponendo attenzione ai promi e mi immagino che sia in elevata densità di popolazione perché altrimenti non ha senso farlo Enrico vuoi parlare tu dei fitoseidi ma allora voi sapete che i fitoseidi sono gli acaro predatori che riescono a contenere efficacemente le popolazioni degli acari fitofagi ragnetto rosso e ragnetto giallo loro generalmente sono sensibili all'azione di insetticidi come effetti collaterali in particolar modo della famiglia dei piretroidi poi bisogna vedere in che momento si tratta i fitoseidi perché ho un trattamento diciamo in questo periodo per esempio dove abbiamo le femmine fecondate che escono dai ricoveri invernali si portano sulle foglioline e lì cominciano a deporre le uova perché sono già state fecondate nell'autunno precedente lì iniziano a determinare la nuova generazione se noi facciamo un trattamento in questi giorni o nel giro di dieci giorni abbattiamo fortemente le femmine che sono quelle che hanno il compito di ripopolare la vegetazione in rapida crescita quindi è deleterio il trattamento in questo momento viceversa se io faccio un trattamento quando ho la popolazione di fitoseidi che si è già diffusa su tutta la massa vegetativa e si è ampiamente diluita e aumentata come numero ecco che l'impatto di un trattamento che ha effetto collaterale sui fitoseidi è minore resto da te Enrico che così un paio di domande anche per te e tu hai parlato tantissimo di monitoraggio per quanto riguarda le cocciniglie e se il monitoraggio non viene effettuato come si può posizionare il trattamento contro le cocciniglie se non viene fatto il monitoraggio in un'area ma il monitoraggio in qualche modo deve essere fatto perché la difesa integrata la difesa sostenibile non la si fa con la fantasia o quel sentimento e ci si trova l'amante quel sentimento ma la difesa sostenibile si fa con dei dati ma dei dati anche raccolti in maniera scientificamente corretta quindi bisogna che ci mettiamo tranquilli e che ci ma ci sono degli ottimi tecnici in tutte le aree che possono in qualche modo seguire un monitoraggio poi certo il monitoraggio richiede richiede dedizione perché perché ci vuole del tempo da dedicare per fare queste osservazioni richiede anche passione per una cosa perché per dedicarci del tempo ci vuole un po di passione per delle e anche diciamo così la curiosità nell'osservazione ecco che se noi mettiamo insieme questi elementi guardate che un viticoltore può fare dell'ottimo monitoraggio nel suo vigneto se mette insieme questi ingredienti se mette insieme questi ingredienti la dedizione la passione e le competenze e fa qualcosa di buono e lo può fare per sé e anche per altri viticoltori quindi qualche in qualcosa bisognerà ben che fare perché altrimenti ripeto quei sentimenti si fanno altre non si fa la difesa integrata chiarissimo veramente chiaro e un'altra domanda sempre per te e chiedono tra area nord centro sud e i cicli del cocciniglie di quanto sono sfasati? Beh possono essere sfasati possono essere sfasati perché naturalmente tutti gli insetti in generale ma direi le cocciniglie farinose in particolare che sono insetti pecilotermi cioè vale a dire la temperatura influenza in maniera determinante la velocità di sviluppo di questi di questi insetti per cui è ovvio che nell'area mediterranea del centro sud Italia le temperature mediamente sono più elevate che al nord e quindi la velocità di sviluppo di insetto è più forte rispetto che nel nord insomma quindi è importante dare delle indicazioni anche per diciamo area tendenzialmente omogenea. Altra domanda chiedono l'efficacia di un insetticida di azadiractina nei confronti delle neanidi di cocciniglie se hai esperienze in tal senso. Azadiractina? Beh insomma adesso io non ho dati alla mano di questo in maniera particolare però da dati che ho potuto vedere in letteratura ha una certa efficacia nei confronti di neanidi e anche in questo caso è sempre importante però aspettare ok il momento giusto perché se noi abbiamo una cartuccia da sparare io non posso spararla a caso devo attendere di spararla al momento giusto quando ho almeno il 50 60 per cento degli anni di immigrazione perché altrimenti l'efficacia di un insetticida anche ma non solo di l'alzadiractina anche del piretro ma anche di insetticidi di origine chimica cambia molto l'efficacia a seconda del momento in cui io applico questo insetticida. Il timing di applicazione è fondamentale. Ok Silvio torno da te una domanda su Flipper chiedono un po' quella che è la modalità applicativa anche perché rientra in questo gruppo dei bioreational cioè quindi sono dei prodotti sicuramente più tecnici e quindi anche più dove non sono più difficili da impiegare ma dove la tecnica è fondamentale per evitare che ci sia un insuccesso del trattamento. In particolarità in particolare chiedono sulla modalità applicativa e quindi sulle dosi da utilizzare e poi l'altra cosa che chiedono visto il tempo di carenza che appunto per questa tipologia di prodotti non c'è e se ha senso applicarlo nella fase finale della coltivazione. Sì allora per quanto riguarda la modalità applicativa noi quest'anno faremo delle esperienze un po' mirate per poter consigliare alla fine della stagione anche quali ugelli andare a utilizzare e informazioni come quelle che diceva il dottor Mori la velocità di avanzamento della trattrice eccetera quindi non si parla solo di volume d'acqua ma effettivamente di qualità della distribuzione. Ad oggi non ho queste informazioni posso solo dire che la bagnatura è fondamentale e che abbiamo visto dei risultati migliori quando il prodotto viene applicato al mattino presto o alla sera queste sono un po' le nostre esperienze. Poi per ulteriori informazioni alla fine della campagna avremo dei dati in mano più specifici. Per quanto riguarda la concentrazione da utilizzare in etichetta si consiglia 1-2% quindi 1-2 litri e tolitro noi abbiamo visto comunque dei risultati soddisfacenti rimanendo sull'1%. Bene ora vorrei coinvolgere tutti e tre per questa domanda è un po' il tema che aveva affrontato Nicola all'inizio appunto questo cambio di strategie insetticide che ci sono stati in questi anni. Il problema delle resistenze sicuramente è un problema che può creare dei problemi soprattutto perché abbiamo pochi meccanismi di azione disponibili. Qual è la strategia ottimale? Tu già Silvia ne hai accennato già avere due soluzioni che permettono di diciamo alternare i meccanismi. Vorrei prima un parere da parte di Nicola ed Enrico e poi passare a tempo. Sì la gestione delle resistenze in un momento in cui il portafoglio a disposizione si sta sempre più riducendo diventa fondamentale. Sulle cicaline abbiamo tre gruppi IRAC il 3, il 4 e il 22 quindi di fatto abbiamo veramente 22 è corretto Silvia? Si vantano? Oddio. Ok. Si a memoria non me lo ricordo. Tre, tre, tre. Quindi di fatto ecco quindi di fatto ecco però dobbiamo considerare che lo scasso di ostitano sia monofogo, monovoltino quindi di fatto abbastanza. Invece io la vedrei molto un po' più di difficile gestione per insetti di Enrico che fanno dalle due alle tre generazioni. Quindi è chiaro che la rotazione è fondamentale soprattutto il rispetto delle dosi, perché gli studi tutti sono riferiti a una dose che quindi bisogna stare attenti a usare la mezza dose più mezza dose eccetera, cosa che italiche fantasie o italiche soluzioni venivano fatte in questi anni. Però passerei la parola Enrico proprio per la difficoltà invece di gestione di un insetto polivoltino. Sì direi che certo non fissarsi su un'unica molecola con un unico meccanismo d'azione è importante però se io penso alle cuciniglie è importante anche un altro aspetto. Io posso decidere di applicare una strategia di difesa integrativa sulle cuciniglie, integrata con diversi mezzi di difesa e qui mi riferisco per esempio all'integrazione, alla sinergia che ci può essere tra mezzi di difesa biologici con l'utilizzo di nemici naturali perché se per esempio parlo di Planococcus ficus come è stato detto prima ci può essere l'impiego di un parassitoide o anche di un predatore e questo lo posso integrare con l'applicazione di insetticidi ma bisogna che questi insetticidi siano o per il loro meccanismo d'azione o per l'epoca di applicazione rispettosi di lancio di parassitoidi o predatori che ho fatto e questo è un aspetto molto importante perché ecco che allora se io integro diversi sistemi di difesa così come aspetti agronomici e quindi fare attenzione alle concimazioni azotate perché un eccesso di vegetazione legato a un eccesso di concimazione azotata porta a un aumento della presenza di cuciniglie oppure anche è stato dimostrato l'irrigazione eccessiva porta a un aumento della infestazione da cuciniglie soprattutto farinose quindi anche in questo caso ci sono diversi aspetti da considerare e da mettere insieme perché quando si lavora all'esterno si lavora in un agroecosistema non c'è solo un fattore da tener conto ma ci sono tanti fattori quindi sì la diciamo così l'alternanza di insetticidi a diverso meccanismo d'azione ma soprattutto l'integrazione di mezzi di diversi di difesa che tra di loro possono trovare sinergia e dare dei risultati molto importanti Silvia Scusa Gian Antonio prima non ho risposto alla domanda completamente mi sono accorta adesso cioè non so se posso rispondere adesso l'efficacia dei flipper sugli adulti mi scuso con chi ha fatto la domanda allora dalle nostre esperienze abbiamo visto che il prodotto ha un'efficacia paragonabile a quella del piretro stiamo parlando di prodotti che funzionano per contatto e quindi che hanno un'efficacia comunque inferiore sicuramente all'ottanta per cento non di più Ok invece volevo appunto chiudere il giro sulla tematica delle resistenze quanto è difficile appunto riuscire a trasferire questo concetto poi ai vostri clienti fondamentalmente perché voi attraverso la ricerca proponete delle soluzioni che però vanno tutelate correttamente Assolutamente noi stressiamo sempre il fatto di non sottodosare i prodotti di rispettare gli intervalli applicativi e di alternare sicuramente i meccanismi di azione purtroppo vedo che per quanto riguarda il dosaggio spesso in alcuni areali insomma si prendono un po' delle iniziative forse per risparmiare non lo so ma sono iniziative molto pericolose molto pericolose quindi rispettare sempre l'etichetta del prodotto Bene, direi che siamo arrivati alle conclusioni di questo incontro è stata un'ora e mezza molto intensa innanzitutto volevo ringraziare Nicola Mori, Enrico Marchesini e Silvia Casalini per le loro interessantissime relazioni ricordo a tutti i partecipanti che chi avesse richiesto l'evento partecipa alla formazione di agronomi, periti agrari e di assenologi e che comunque la registrazione dell'evento sarà disponibile sul canale YouTube dell'informatore agrario ringrazio tutti quelli che sono rimasti connessi sino ad ora e vi auguro una buona serata Grazie a tutti